Sono qui a presentarvi una novità assoluta nel panorama didattico universitario italiano che è la creazione di un master universitario, un master di secondo livello professionalizzante avvenuto a partire da quest'anno dall'Università di Siena. È un master molto bello, strutturato su di una parte propedeutica di alta cultura e su parti specifiche che sono la fitoterapia, l'omeopatia e l'agopuntura. La scelta di queste tre discipline nel loro insegnamento universitario risiede nel fatto che la Regione Toscana, prima in Italia, ha scelto di legiferare e normare nell'interesse del cittadino e negli operatori sanitari stessi le discipline volgarmente definite di medicina complementare. Perché la scelta di queste tre discipline? Perché sono in assoluto quelle che statisticamente hanno più rilevanza nell'ambito del panorama sanitario e perché sono quelle anche più dotate di un corredo epistemologico, di una serie di evidenze scientifiche che ne permettono la loro diffusione e quindi accettabilità da parte del corpo sanitario convenzionale. E diceva un master biennale, avviene presso l'Università di Siena e è aperto a tutti gli operatori nel campo sanitario, quindi medici, farmacisti e veterinari. La difficoltà che ha avuto questo master nella sua insorgenza è stato il superamento delle resistenze da parte di un mondo sanitario non particolarmente, come posso dire, aperto alle novità. Il volere politico, la volontà, la determinazione della regione toscana ha permesso di superare tutto questo. Dato fondamentale di questo master universitario è il fatto che opera nel contesto di un'organizzazione molto complessa e molto, ritengo, ben strutturata, che prevede anche, oltre alla formazione teorica nei banchi universitari, una formazione pratica che si appoggerà agli oltre 20 ambulatori operanti nell'ambito della regione stessa e che erodano prestazioni in campo, appunto, omeopatico, fitoterapico e agopunturiale, ma la nascita di un ospedale, un ospedale territoriale, un ospedale pubblico, l'ospedale di Pitigliano che è nel comprensorio del Grossetano, che erogherà prestazioni nelle tre discipline precitate all'atere delle prestazioni classiche, proprio dell'attività ospedaliera, al letto del paziente. Ecco, i laureandi, i diplomandi nel corso di questo master avranno la possibilità, oltre dell'apprendimento teorico, di un apprendimento pratico nell'ambito di queste strutture sanitarie.